benvenuti al secondo incontro con lineamenti di storia dell'arte anche per questo incontro abbiamo deciso di trattare un tema generale un tema che allo stesso tempo è trasversale e diacronico e che affronterà il modo in cui le varie culture e gli artisti nel tempo hanno raffigurato il corpo umano per semplificare il tutto ho individuato quattro tendenze principali che si sono presentate ciclicamente nel tempo a incominciare dalla preistoria fino ai nostri giorni la prima è la tendenza sintetica poi ne troveremo una idealizzante per passare a una realistica e infine ad una espressiva iniziamo con la tendenza sintetica e con quella idealizzante nella prima parte del video ci concentreremo su queste due tendenze e chiuderemo il video anche con una domanda che è esiste la bellezza ideale nella seconda parte invece prenderemo in esame la tendenza realistica e quella espressiva iniziamo subito con la tendenza che si è manifestata per prima che l'uomo ha utilizzato per primo sin dall'epoca preistorica ma che poi vedremo è stata utilizzata anche in epoche successive fino a giungere alla nostra ed è la metodologia chiamiamola così e sintetica quella secondo il quale la quale il corpo umano è rappresentato nei suoi tratti essenziali le figure quindi sono stilizzate e sono stilizzate e riportano alle forme essenziali la raffigurazione del corpo è una tendenza che può essere utilizzata non solo per fini artistici ma anche per fini pratici la prima immagine che vediamo ci porta proprio nella preistoria dove tutto è iniziato e qui abbiamo le cosiddette una serie delle cosiddette veneri steatopige che è una parola che deriva dal greco e significa grasse con adipe e noterete appunto che nella figura femminile e sono messe in evidenza volutamente ma se guardate anche la semplificazione grafica che trovate in fondo all'immagine secondo figure geometriche ben precise le parti anatomiche che caratterizzano la donna questa modalità dicevo è poi continuata nella raffigurazione anche di altri soggetti qui ad esempio nella grotta di lascaux abbiamo una raffigurazione di una caccia e pur essendo estremamente semplificati riusciamo a cogliere perfettamente ciò che è rappresentato un guerriero che è andato a caccia e probabilmente in questo caso ha avuto la peggio l'animale ha avuto la meglio sul sul guerriero ecco qui i discorsi sarebbero tantissimi questo tipo di immagine avevano una valenza ancora magica attraverso le immagini l'uomo credeva di poter influenzare il futuro quindi quando rappresentava queste scene di immagini in questo caso potremmo dire che la funzione era quella patropaica cioè quella di far sì che non avvenisse quello che era rappresentato concentrandoci comunque sulla figura umana vediamo che i tratti sono minimi essenziali ma perfettamente riconoscibili questo è un altro graffito che proviene dalla grotta della dura che a palermo e anche qui vedete rappresentati contratti veramente minimi figure che possiamo percepire come perfettamente umane stessa cosa in queste incisioni rupestre della valcamonica in cui ancora una volta sono raffigurate degli uomini durante una scena e di caccia qui li vediamo più ingranditi e quindi cogliamo meglio gli elementi essenziali e questa è di nuovo una scena della grotta di lascaux di nuovo animali e uomini allo stesso tempo rappresentati in modo sintetico abbiamo detto e questa tendenza dicevo si è però è stata però utilizzata non solo nella preistoria ma anche in periodi storici successivi compresa la nostra e adesso avremo una carrellata veloce appunto che ci porterà a mettere in chiaro questo questa questa affermazione partiamo ancora una volta con delle immagini a questo punto siamo nel periodo storico e provenienti dalla lunigiana e sono una figura maschile e una figura femminile e qui ancora una volta i tratti sono essenziali nella figura femminile sono messe in evidenza i seni e la figura maschile invece caratterizzata dalla presenza di una lancia andiamo un pochino più avanti nel tempo ci spostiamo a malta e questa è una figura femminile dormiente e notiamo ancora forme diverse da quelle precedenti più curve più morbide ma di nuovo nella loro essenzialità ci permettono di percepire perfettamente il corpo femminile ci spostiamo più avanti ancora nel tempo questa è la famosa anfora del dipilon e siamo nel periodo dell'arte arcaica greca qui abbiamo un treno se cioè un pianto funebre e cogliamo ancora una volta tutti gli elementi fondamentali della figura sia maschile sia femminile sul letto di morte è esposto il corpo del defunto che è una donna e lo cogliamo dal modo in cui è vestita ai lati del letto e di fianco al letto ci sono le figure di che piangono questa questa defunta è proprio il momento in cui diciamo così si dà l'estremo saluto al corpo del defunto prima che esso venga venga inumato e c'è anche la particolarità attraverso le dimensioni vedete proprio alla destra del letto una figura più piccola dell'altra probabilmente questo è il figlio della donna che è morta che è differenziato proprio in modo così molto semplice semplice con le dimensioni che sono minori rispetto a quelli degli altri piangenti andando più avanti a noi più vicino a noi nel tempo arriviamo a ravenna qui abbiamo questo bellissimo corteo di una imperatrice affiancata da tutte le sue ancelle dai dignitari di corte il corpo è bidimensionale non possiamo di certo parlare di una raffigurazione realistica ma cogliamo perfettamente ancora una volta il discorso che ci interessa quello del corpo e in questo caso femminile siamo adesso di fronte a un'immagine del periodo romanico questa è una scultura in bronzo riconoscerete subito c'è scritto in alto anche nativitas domini ma senza anche conoscere il latino senza leggere è un'immagine per noi molto semplice da identificare nella grotta il bambino la madonna col bambino appena nato giuseppe da una parte lefantesche sotto che stanno preparando il bagnetto e sopra gli angeli che annunciano la nascita di cristo e i pastori che arrivano per glorificare appunto questa nascita sempre del periodo romanico abbiamo questa altra rappresentazione in cui sono è facilmente credo riconoscibile sono facilmente riconoscibili due momenti dell'inizio della storia dell'uomo il peccato originale da una parte e quindi la cacciata dal paradiso terrestre e poi l'uomo e la donna che sono condannati a questo punto a vivere nel mondo non più nell'eden ma nel mondo terrestre e quindi destinati a lavorare chi a fare i lavori domestici quindi filare i tessuti filare la lana e tessere i tessuti e chi invece lavorare nei campi e poi nel comparto su in alto a destra il primo omicidio della storia caino che uccide abele anche qui vedete le figure sono semplificate al massimo ma perfettamente riconoscibili nella loro fisicità un po più avanti ancora nel tempo abbiamo il questo famoso rilievo scultorio che sulla facciata della cattedrale di modena qui le forme cominciano ad essere più riconoscibili ma non possiamo dire ancora realistiche ancora stilizzate e però allo stesso tempo perfettamente funzionali alla raffigurazione del corpo femminile maschile quello di eva che viene creato da dio dal da adamo addormentato e qui c'è anche una particolarità ancora che mette proprio in evidenza i diversi sessi se notate la prima scena eva e adamo ancora diciamo innocenti non hanno bisogno di nascondere la propria sessualità anzi addirittura non l'hanno proprio non è messa in evidenza nella seconda immagine invece dopo il peccato adamo si nasconde con la foglia di fico e lo stessa cosa fa eva ma a eva vedete sono adesso nel suo corpo ben visibili i seni che prima non erano visibili dicevamo che questa tendenza però arriva fino ai nostri giorni qui ho ripreso l'immagine precedente di quella figura dormiente che provene dal museo della valletta di malta e di qua adesso molto velocemente vi faccio vedere le immagini di un pittore contemporaneo che sicuramente conoscerete che a botero queste forme così morbide queste forme giocate tutte sulla linea curva sono riprese da quello che abbiamo visto è stato fatto tantissimo tempo fa in epoca addirittura preistorica qui ce ne sono alcuni esempi e questo si ritrova anche in sculture di altri artisti qua metto in parallelo il graffito che abbiamo visto prima dalla grotta della daura con una immagine di matisse tantissimi sono gli anni che sono passati dall'una e dall'altra raffigurazione ma vedete che le idee sono esattamente le stesse ancora più si vede in questa famosa immagine che è la danza appunto di matisse che riprende proprio sembra forse quasi volutamente diciamo probabilmente non è così ma l'idea di fondo è la stessa di questi graffiti di preistorici in cui appunto sono raffigurati in cerchio alcuni uomini che sembrano proprio stiano danzando comunque compiendo un rito magico con al centro 22 figure ben identificate e per arrivare ancora più vicino a noi abbiamo un graffito di che sa e ring che è messo a confronto con quei graffiti della valcamonica di cui parlavamo prima le somiglianze sono veramente veramente forti alcune posizioni dei corpi delle braccia vedete che sono perfettamente paragonabili e quasi una può essere sovrapposta all'altra e il risultato non cambia e qui ancora due immagini dei graffiti di keith herring la tendenza sintetica può essere utilizzata abbiamo detto anche a con finalità non artistiche ma come strumento di comunicazione non verbale per rappresentare determinati concetti in poche parole quello che troviamo nei cartelli che ci dicono cosa dobbiamo fare o cosa possiamo non possiamo fare e qui velocemente tanto questi sono di facile comprensione vediamo alcuni esempi ora arriviamo alla seconda tendenza quella idealizzante nella quale gli artisti partono dall'osservazione diretta sia del corpo sia della realtà quindi di tutto il mondo che ci circonda ma rappresentano l'uno e l'altra utilizzando dei canoni basati su rapporti proporzionali armonici potremmo dire quindi che il risultato è quello di un corpo umano senza imperfezioni è un naturalismo idealizzato qualcosa che parte da dalla realtà dalla natura come abbiamo detto ma che poi la depura di tutte le imperfezioni per arrivare a un risultato ideale perfetto e in certi in un certo senso anche con delle forme astratte per far questo gli artisti hanno utilizzato un canone cioè un insieme di norme estetiche codificate che sono ritenute esemplari e che permettono appunto di dimensionare e di proporzionare una forma sia essa una figura umana ma anche architettonica in ogni parte rispetto all'insieme i canoni ovviamente sono stati tanti sono variati nel tempo sono variati all'interno delle stesse delle stesse culture figurative e ne prendiamo ad esempio un due quella dell'arte egizia l'arte egizia aveva un canone suo ben delineato e tutte le sculture che sono arrivate fino a noi ma anche le immagini dipinte sono state realizzate seguendo quel canone e hanno portato al punto a quella che noi chiamiamo arte egizia che ha delle regole ben precise quella della rappresentazione di alcune parti del corpo di fronte le altre di profilo con la finalità di far vedere al meglio ogni parte del corpo umano la vediamo ad avverso queste immagini dipinte ma anche attraverso queste sculture l'arte greca quella che noi per noi è la più importante e che vedremo fra poco ancora oggi ci influenza molto da vicino ha a sua volta è fissato dei canoni non è sempre stato utilizzato lo stesso canone qui vi faccio vedere quello di policleto che tra l'altro scrisse anche il trattato intitolato canon da cui deriva la parola canone che è sicuramente uno dei dei più e dei più conosciuti abbiamo qui la statua del doriforo cioè del portatore di lancia questa è una copia di epoca romana e qui vediamo qual è il canone il corpo è diviso in otto moduli e la regola è sempre quella la testa corrisponde a un ottavo il busto a tre ottavi le gambe a 4 unendo 4 più 3 più 1 viene fuori 8 ma al di là di questo di questa griglia diciamo così iniziale in realtà ogni singola parte del corpo è proporzionata all'altra per cui ci sono tutte le regole che portano alla rappresentazione del naso della mano rispetto al braccio del polpaccio rispetto alla gamba e via dicendo quindi quello che si ottiene è una figura che potrebbe esistere in natura a se così fosse sarebbe una figura perfetta in natura una un corpo umano così perfettamente delineato raramente si riesce a trovare per questo naturalismo idealizzato come dicevamo prima l'altro elemento per ottenere un'immagine che al tempo stesso dia l'idea della stasi ma anche del dinamismo del movimento pur essendo ferma policleto adotta la ponderazione cioè la distribuzione dei pesi del corpo attraverso il chiasmo cioè una modalità per cui alla parte destra altra del corpo corrisponde la parte bassa sinistra e viceversa in questo modo c'è una parte portante del corpo qui è la gamba destra quella segnata con la linea rossa a cui corrisponde la parte sinistra in alto del corpo è il braccio che tiene la lancia quindi quello che svolge l'azione mentre le altre due parti per contrasto quindi il braccio destro e la gamba sinistra vedete sono a riposo non compiono nessuna azione l'immagine che noi abbiamo però è quella di un perfetto equilibrio appunto del corpo secondo questa ponderazione questa distribuzione dei pesi qui qui abbiamo altre statue greche e che utilizzano lo stesso lo stesso canone e che vedremo tra poco dicevo prima ancora per noi si avvicinano all'idea di perfezione qui abbiamo la venere di milo ad esempio che possiamo vedere in tutti i suoi lati e qui la venere callipigia dalle belle natiche in cui vengono messe in evidenza proprio le natiche della dea e chiudiamo qui filologicamente queste immagini qui non ci starebbe prima ho fatto vedere tutte immagini dell'arte classica qui ho sforato nel laocoonte che invece è un esempio di arte ellenistica mi riferisco alla perfezione dei corpi in questo caso l'imperturbabilità dei volti delle statue che abbiamo visto precedentemente sereni privi di espressione di dolore o comunque di qualsiasi altra emozione sono superate appunto perché nel volto del laocoonte vediamo il dolore di questo padre che sta perdendo la vita insieme ai suoi figli ma se ci concentriamo sul corpo umano possiamo dire che ancora una volta questa è una visione idealizzante e qui ne vediamo alcuni particolari ecco qua invece c'è il volto che a differenza delle statue precedenti e vedete si carica proprio di un'espressività che manca nel periodo dell'arte classica greca questo modello questa modalità meglio dire questa tendenza idealizzante è ripresa in epoche più vicino a noi ne possiamo vedere alcuni esempi parlando del rinascimento e poi del neoclassicismo quindi dell'arte tra 4 e 500 e poi nel settecento primi decenni dell'ottocento partiamo con queste statue di donatello il sangue il san giorgio il david e poi il david di michelangelo nei prigioni sempre di michelangelo e in queste statue uno di tor valdensen e l'altro di canova in cui vediamo raffigurate le grazie ora a questo punto visto che si parla di bellezza ideale in questo caso di corpi ideali quindi di bellezza possiamo chiederci se esiste o meno la bellezza ideale è un discorso che puntualmente ci ritroviamo a fare qui vedete una carrellata di immagini in cui ho raccolto statue antiche dipinti del seicento foto di modelle e di modelli dei nostri tempi avrete riconosciuto marylin morrow in alto e sull'estrema sinistra in basso invece c'è una una fotografia di mapplethorpe ecco la domanda è aperta esiste la bellezza ideale si può parlare di esiste di bellezza ideale ma se partiamo dal corpo maschile in realtà potremmo dire che più o meno dall'arte greca che abbiamo preso in esame poco fa fino ai nostri giorni l'ideale è cambiato poco se mettiamo a confronto il dorifero di policleto con il david di michelangelo con questo modello che è stato utilizzato qualche anno fa da dolce gabbana per una loro campagna pubblicitaria diremmo che sostanzialmente per quel che riguarda l'uomo il canone maschile è invariato lo stesso se comprendiamo in esame queste immagini una degli nudi di michelangelo nella cappella sistina uno studio fatto da da david sugli nudi di michelangelo e una foto di herb rizzo un fotografo della seconda metà del novecento che vedete proprio sembra aver a sua volta studiato gli nudi di michelangelo e anche guardando una campagna pubblicitaria qui ad esempio preso quella del profumo acqua di joe e sotto vi ho messo il la statua greca che abbiamo visto prima il corpo maschile sembra non essere cambiato per quello che riguarda la sua bellezza ideale nei canoni fino ad oggi vediamo che qui non c'è stato bisogno di mettere io delle immagini perché secondo la strategia di versace le statue sono già nel nello spot stesso se passiamo invece al corpo femminile qualcosa sembra essere cambiato abbiamo qui adesso una rapida carrellata partiamo ancora da veneri dell'arte greca con queste forme così rotonde pingue passiamo a un primo dipinto di rubens quindi siamo nel 600 questa è la moglie di rubens raffigurata dal pittore e vediamo che ancora sembra essere un elemento legato alla bellezza il fatto che ci sia della carne da poter toccare della cellulite addirittura qui si vede anche sulle ginocchia arriviamo agli 800 con manè la colazione sul prato vi faccio notare comunque la posizione il modo in cui sono raffigurate le due donne che riprendono le veneri che abbiamo visto precedentemente continuiamo con queste altre due donne raffigurate da Renoir per passare a Cézanne le grandi bagnanti anche qui fate attenzione a questa composizione piramidale che vediamo sia a destra che a sinistra in questo gruppo di donne e che ci ritroviamo per arrivare a canoni più vicini ai nostri in questa famosa foto in cui sono rappresentate le top model che tanto andavano di moda agli inizi degli anni 90 ecco vediamo che solo semplicemente attraverso queste immagini il corpo maschi il corpo femminile ideale percepito come ideale è sicuramente cambiato nel tempo e arriviamo adesso a anche discussioni che si sono fatte recentemente una è quella su vanessi incontrata che secondo certe una certa idea non avrebbe un corpo ideale quasi dovrebbe vergognarsi di essere leggermente in sovrappeso ma ancor più recentemente ad è stato scandalo questa questa ragazza questa modella che ha sfilato per gucci in una nella collezione primavera estate del 2019 allora innanzitutto è stata una una polemica non voluta o meglio se fa anche fosse stata voluta scattata in un momento successivo alla alla sfilata quando la sfilata ebbe luogo non ci fu assolutamente nessuna polemica poi siccome su facebook è apparsa una fake news in cui era scritto che secondo alessandro michele il direttore creativo di gucci lei sarebbe una delle 100 donne più belle del mondo si è aperto il pandemonio cominciato di tutto insulti addirittura a questa ragazza che mai e poi mai alessandro di michele aveva indicato come una delle 100 donne più belle del mondo ma in realtà gucci e altri marchi sono anni che fanno sfilare sulle passerelle modelle e modelli che nulla hanno a che fare con i canoni considerati classici fino a questo momento abbiamo visto e l'idea non è certo quella di far scandalo gucci e altri marchi non hanno bisogno di far scandalo per vendere è proprio l'idea di base che è diversa l'idea che sta all'interno del mondo della moda innanzitutto vi faccio vedere alcune di queste modelle quelle che vedete sopra hanno sfilato per gucci quelle che vedete sotto hanno sfilato per selene e sicuramente non rientrano in quelle bellezze che eravamo abituati a considerare tali fino agli anni 90 diciamo ma la stessa cosa e qui è ancora più evidente la differenza la ritroviamo in questi modelli maschili che sono appunto delle ultime sfilate e di gucci al di là degli abiti non entriamo nel discorso della ma degli abiti che indossano e qui l'idea di alessandro michele appunto non è quella di far scandalo per vendere le letture che possiamo dare sono due attraverso la moda ognuno deve esprimere quello che è quindi è libero di mettere in evidenza anche quelli che sono considerati considerati normalmente dei difetti vengono proprio accentuati quelli che la mentalità corrente considera dei difetti un'altra chiave di lettura forse più più fine però che non è da escludere potrebbe essere invece questa devo pubblicizzare un capo di abbigliamento che tutti possono permettersi un capo di abbigliamento che non prevede una particolare ricerca uno studio che non è fatto con materiali preziosi che non è fatto a mano come nel caso dell'alta moda e quindi che costa poco prendo modelli e modelle bellissime perché chi compra quel capo di abbigliamento si identifica nel modello nella modella al contrario vendo capi di abbigliamento bellissimi costosissimi fatti a mano non arrivo a parlare dell'ambito dell'alta moda dove i capi sono fatti se non in un unico capo venduta una singola persona comunque in pochissimi capi richiedono ore e ore di lavorazione per essere realizzati e costano a volte centinaia di migliaia di euro quindi nessuno di noi può comprarseli a quel punto posso per rafforzare la preziosità della cosa che devo vendere l'esclusività posso utilizzare personaggi persone uomini e donne che esulano completamente dai canoni estetici proprio perché è qualcosa che nessuno può permettersi queste sono due letture possibili sicuramente mi dispiace ma non ne sono state fatte queste campagne di pubblicità come molti hanno sostenuto per vendere di più perché gucci e altri non hanno assolutamente bisogno di scandalizzare per questo motivo bene lasciamo adesso l'ambito della moda e tentiamo di rispondere alla domanda con cui si conclude questa prima parte della lezione esiste allora una bellezza ideale credo che le immagini che abbiamo visto ci portino a dire di no prendiamo facciamo prima una considerazione fino a non troppo tempo fa chi ha fissato i canoni della bellezza ideale maschile femminile sono stati gli uomini sia gli artisti la maggior parte degli artisti fino all'epoca contemporanea sono stati uomini ma non solo artisti delle arti visive pensiamo anche chi ha scritto di estetica quindi in ambito filosofico le voci sono pressoché totalmente maschili ci sono poi altre considerazioni da fare il corpo femminile bello per rubens quello che abbiamo visto nell'immagine di sua moglie risponde a quello che è anche l'elemento biologico teniamo in considerazione pensando all'adipe al grasso che sotto una certa soglia di percentuale di grasso corporeo il corpo femminile non ha più le mestruazioni questo significa che una donna non è in grado di procreare una donna nel 600 che aveva un corpo pingue che aveva come vediamo di nuovo nell'immagine della moglie di rubens la cellulite sulle ginocchia che oggi a noi non piace all'epoca era segno di poter dare figli di poter procreare di poter garantire una prole quindi il concetto di bellezza è legato a tanti elementi socio culturali e anche economici che cambiano nel tempo inevitabilmente quindi anche cambiano i canoni della bellezza soprattutto quelli femminili ma come abbiamo visto nelle ultime sfilate di gucci anche quelli maschili